A questo punto restiamo in tema di sport americani con il Super Bowl che potrete seguire in diretta ed in esclusiva domenica notte su RaiSport+. Ma è proprio tutto così americano il Super Bowl? Valle di Oiafrate Quest'anno il Super Bowl parla anche un po' italiano, un po' più del solito in verità perché l'Italia nel football non è mai mancata del tutto Due giocatori simbolo dagli anni 80 agli anni 90, Joe Montana, quattro Super Bowl vinti come quarterback con i San Francisco 49ers, un record e Dan Marino, icona del football a Miami, hanno origini italiane e ne sono orgogliosi Gran parte della mia famiglia viene da Pizzo Ferrato che è a nord-est di Roma, circa tre ore di distanza Ci sono andato 4-5 anni fa con mio padre, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo bevuto vino, mangiato pasta e passato bene il nostro tempo A origini italiane anche James Brockman Olivo, per 5 anni capitano dello special team dei Detroit Lions attuale commissario tecnico della nazionale italiana, al Super Bowl come commentatore televisivo con il sogno di portare un po' di NFL anche in Italia Se riuscissimo a comunicare ai genitori italiani i valori che insegna questo sport ai bambini manderebbero tutti quanti a giocare al football americano Un'ultima cosa, è più difficile fare il commissario tecnico della nazionale o fare il telecronista di football? Sicuramente il tecnico commissionare della squadra nazionale, sicuramente, senza altro Grazie, prego, grazie a voi Allora, per tutti gli appassionati, di nuovo l'appuntamento è con domenica notte qui su Rai Sport più in diretta